Salve a tutti, benvenuti ai quarti di finale del campionato Mavericks. Ci troviamo sul campo Oliviero. Hanno giocato le squadre T-Home Medi e FC Oliviero. La partita si è conclusa per il risultato di sia qua, solo per T-Home Medi, che è rappresentata da... Raffaele Riccardi. Fenomeno per gli amici. Fenomeno. Ok, infatti Riccardi ci ha segnato un gol. Il gol del pareggio lo dico alla mia ragazza. Ok. Ogni gol alla mia ragazza. Ok, la salutiamo. Ti amo. Addirittura. Insieme a Damiani. Damiano, Toscano. Damiano, non sbagliate. Scusami. Vabbè, Riccardi mi ha detto che... Eh, ha segnato il portiere Toscano che è fuggito, però lo volevamo dire, ha segnato dalla porta. Va bene. Posso parlare di sì? Ok, grazie. È stata una partita molto maschia, molto dura. È stata una partita anche molto veloce. Le squadre erano tutte all'attacco. Infatti 6-4, un sacco di gol. Bella partita. Sono da due spulsi perché è una partita maschia. E ora siamo in semifinale. Sono contento. Siamo in semifinale. La settimana prossima. La settimana prossima non lo so. Sì, ci sono ancora. Cioè, dipende dalla vita. Vabbè, puoi morire. No, io no. E chi? Gli altri possono morire. Vabbè, io vi auguro di no. No, giocatevi la semifinale. Magari la finale. Ve lo auguro e poi morite. Va bene, grazie. No, un'altra cosa. Che niente. Il portiere, devo fare un ringrazio particolare al nostro portiere. Che oggi ha fatto una papera. E dice cose buone. Quindi 9-0. Veramente. Ha fatto un gol che è fantastico. È stato fantastico. A posto. Quindi saluto, buona male a tutti quanti e vinceremo il torneo. Già lo sapete. Io ve lo auguro. Ciao.